Sono della provincia agrigentina e più precisamente di Comitini, due uomini che a bordo di una BMW serie nera hanno provocato all'Alluvier in Belgio una strage che ha causato sei morti, almeno dodici feriti. In manette sono finiti Paolo e Nino Falzone, rispettivamente di 34 e 32 anni, cugini, entrambi nati e residenti in Belgio ma da genitori di Comitini. Al momento della tragedia erano presenti almeno 200 persone nella zona, fortunatamente tra le vittime non si registrano bambini o minorenni. L'auto in corsa si è lanciata tra la folla che si era radunata per partecipare ad un evento con le maschere tradizionali del carnevale. L'autista dopo la strage ha proseguito la sua folle corsa ma è stato subito intercettato e bloccato dalla polizia locale. Il Comune contemporaneamente ha fatto scattare il proprio piano di emergenza. Il palazzetto dello sport è stato messo a disposizione delle famiglie per fornire assistenza ai parenti delle vittime. La dinamica dell'episodio è ancora tutta da chiarire, non è ancora chiaro inoltre se si sia trattato di un gesto volontario.